Il gran maestro che avete appena visto, prima si è dato alla fuga e poi diceva di voler chiamare i carabinieri. Magari avremmo sottoposto ai carabinieri il quesito giuridico, ma invece dei carabinieri arrivano i vigili urbani. Siccome c'è una legge qui del 3 Marte 51, così lo diciamo che lei che è pubblico ufficiale, numero 178, che vieta stilare agli ordini non autorizzati dallo Stato italiano. Al vigile urbano, come egli stesso afferma, gli è stato detto che noi avevamo aggredito chissà chi. E visto che lui è intervenuto prontamente per redarguirci, noi invece lo abbiamo investito ufficialmente e in modo chiaro. Allora se lei ci viene a dire questo, noi la dobbiamo investire ufficialmente. Agredito? Agredito può dire. Ecco perché io lo sto raccomandando. Ma l'unica cosa che ci ha detto il vigile urbano era che lui non poteva rilasciare interviste. Personalmente non posso rilasciare alcune interviste. Evidentemente non aveva ben compreso il vigile che quella discussione chiarificatrice non era un'intervista, ma era una vera e propria denuncia. Riferendogli nelle sue vesti di pubblico ufficiale, in servizio, una notizia. Una notizia di reato che in quei momenti si stava compiendo e che violava la legge. E giusto per ricordare l'articolo 333 del codice penale, che fa riferimento a denuncia da parte dei privati, anche oralmente. Ed è solo così recita. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia. Secondo punto. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. Giovanni, buona giornata. C'è una legge, la legge, lei è pubblico ufficiale. Così gliel'abbiamo detto pure a lei. E allora, ma per quel vigile urbano noi stavamo facendo solo dello spirito, così ci ha apertamente detto. E noi non crediamo di essere affatto spiritosi, perché abbiamo il massimo rispetto delle forze di polizia. E siamo andati a raccontarlo a suo comandante, il dottor Pietro Belsiore, comandante della polizia locale di Catania. Poco fa stiamo portando la legge del 3 maggio del 1951, numero 178. Gli ordini di patacchiare, parliamo di questo qui. Mettere che stavamo discutendo con la 3,7, i cittadini italiani non possono fare il territorio italiano mantenere l'equattaccio, si è avvicinato con il suo vigile. Noi volevamo informarla che c'è questa vicenda, di questo vigile. Questa è la legge, io credo che lei adesso investe in un ufficiale. Abbiamo parlando già col vice sindaco. Ora lo verificiamo. Grazie, le volevo informarla per il discorso di questo. Grazie per la sua cortesia, buona felicità. Forse il comandante Pietro Belsiore e il suo vice non hanno ben compreso che li abbiamo implicitamente investiti della notizia di reato di cui è l'articolo 333 del codice penale. Il comandante ha detto, ora lo verificiamo. Ma cosa? E con chi? Al momento non è dato sapere. Continuiamo il nostro approfondimento con Valentina Aloisi. Ordine del colare di Sant'Agata di Paternò. Ma è un ordine riconosciuto dall'ordinamento della Repubblica Italiana? E infatti penso no, perché gli ordini in Italia non sono sotto la Costituzione riconosciuto, ma sono qui in Sicilia, è l'ordine della famiglia di Paternò. I Paternò erano rei di Sicilia tanti anni fa. E celebriamo atti di carità. Questa è la nostra celebrazione oggi. Ma lo sai che in Italia è vietato, è passibile di sanzione. Non si possono poggiare decorazioni, stemme, insegne senza un'autorizzazione. Sì, io non le parole per dare a te l'informazione che ho sentito, ma sono qui perché sono bravi uomini che fanno bravi atti di carità. Ma che ordine appartiene lei? Noi appartengiamo a un'organizzazione che è il BTHM, che è il priorato del Tempio Jerusalemitano di Micaela. Ma lei lo sa che non è un ordine autorizzato dall'ordine? Ce ne sono tanti che non sono autorizzati. Sì, noi lo sappiamo. Noi siamo appoggiati, ci appoggiamo in una chiesa cattolica dove ci ospitano. Sì. Facciamo beneficenza. Ma sa che comunque i cittadini italiani non possono dare nel territorio della Repubblica onori, licenze, distinzioni, cavallerecce? Ma noi non siamo un ordine, ho detto siamo un'associazione. Perfetto. Quanto altro? Avvocato Reina. Questa è il nostro avvocato Reina. Buongiorno, l'avvocato Reina. Buongiorno. Buongiorno, l'avvocato, ci rincontriamo. È un momento di piacere, è grande, mi piace. A cui lo conosco, lo sentite. Sì, ma abbiamo un poesito da fare. Abbiamo un poesito da porle, visto che lei è qui presente oggi. Oggi proprio no, la festa di San D'Agata. No, ma noi vogliamo semplicemente fare una domanda semplicissima. se voi siete un'associazione, non un ordine, ma sa che comunque l'articolo 7 della legge del 51-178 vieta ai sistemi italiani di utilizzare nel territorio della Repubblica onorificenze, distinzioni cavallerecche, conferite, eccetera. Infatti noi non siamo un ordine da valerisco, noi siamo una congregazione. Scusi, la domanda la rivolga... è un rimbalzo continuo. Ascolta, abbiamo un rappresentante nazionale dell'ordine, il dottor Raffaele Sepe, grande giornalista, e lui appartiene alle forze dell'ordine. Dottoressa Valentina Loisi dell'indistretto, il programma indistretto Sisi Inside Web TV. Le volevo chiedere, come mai, durante la festa di Sant'Agata, fate queste sfilate così pompose, processioni con abiti pomposi e quant'altro, a che scopo? Qual è l'utilità? Lo scopo è di ringraziamento e devozione alla Santa, ovviamente. Noi veniamo giù, noi veniamo positivamente da ogni parte d'Italia per poter, con il nostro gruppo qui rappresentante, a Catania. Poi siamo, come le dicevo, se me lo fa spiegare, siamo un'organizzazione laica, nella fattispecie siamo una congregazione di San Michele Arcangelo, che si rifà la regola templare di San Bernardo di Caravalle, quindi non siamo un ordine templare, proprio sui nostri statuti, non siamo neanche un'associazione, noi siamo un trust che fa riferimento alla legge delle isole del canale. Pagate qualcosa per accedere all'organizzazione? Una capitazione annuale di 150 euro annuali. E questi soldi dove finiscono? Finiscono in beneficenza. Nell'ultimo anno abbiamo fatto 40.000 euro di solidarietà. Noi facciamo riferimento alla regola templare di San Bernardo di Caravalle, quindi noi ci dissociamo da chi si professa cavaliere templare, che come sappiamo sono sospesi con bolla papale. Quello che è importante, secondo me, comunicare è che non siamo un ordine templare, ma siamo un'organizzazione di San Bernardo di Caravalle, che si rifà. D'accordo. Nell'istituto della regola, alla tradizione della regola. Comunque, noi siamo in regola, siamo in regola. Allora, noi le nostre finalità sono due, la cultura e la solidarietà. Organizziamo convegni, ieri qui a Catania ne abbiamo organizzato uno, un po' in tutte le parti d'Italia. Poi abbiamo degli istituti, tipo il centro disabili di Tivoli, la piccola pietra, aiutami, il Don Orione a Reggio Calabria, che noi finanziamo con le quote di capitazione che noi riceviamo, che sono relativamente basse, cioè ogni cavaliere ha una quota di capitazione, quota sociale, la chiami come vuole, di 150 euro l'anno, a fine anno viene devoluta in queste organizzazioni. Il Don Orione, la piccola pietra, le madri con la violenza con il bambino, organizziamo eventi di solidarietà. Autorizzato dall'ordinamento della Repubblica o della Santa Terra. Assolutamente. Insomma, pare che tutta questa rispettabilissima gente non conosca l'articolo 7 della legge, che vieta anche alle associazioni. Ora passiamo all'ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Di Gerusalemme, di Gerusalemme, ah già, neanche questo c'è. E non sono, nessuno è autorizzabile allo Stato italiano. Noi abbiamo parlato addirittura col commentatore di quest'ordine. Buongiorno, buongiorno, si iniziai, posso fare una domanda? Quale ordine appartenete? Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. È un ordine che è riconosciuto dallo Stato italiano, funziona dalla legge del 3 marzo del 1951, numero 178. Questo ordine è stato riconosciuto perché noi abbiamo fatto appositamente un'associazione e quindi abbiamo fatto riconoscere l'associazione dell'ordine. italiano per i ministeri di competenza e riconosciuto. Si chiama l'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, OSJ, cavalieri ospitalieri. Sì, di Malta, ci sono molte frange, diciamo. OSJ è quello là. Il suo ruolo? Io sono il commentatore. Ci ha appena detto che il ministero degli interni, oltre che a riconoscersi anche come ordine, dice lui, ci hanno fatto costituire l'associazione, dice sempre lui. Boh. C'è un ruolo più alto del tuo? Sì. Il priore. Il priore. Allora, non so più. Possiamo fare una domanda al priore, un secondo? Il priore, come lo chiamate il priore? Vieni, a tosse. Vieni, a tosse. Vieni, a tosse. Il priore, buongiorno, ma tutti i studenti del programma di risultato. Scusi il guantino. No, per carità. Mi dica. Bianco è sempre purezza. Abbiamo fatto la domanda. E il rosso? Il rosso. Quando siamo a Norvulia, la catanista. No, 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 lo prego. Stiamo facendo un po' questa analisi. Sì, sì. Mi chiamiamo avanti altri anni. Se il vostro ordine, giustamente il suo collaboratore, ha detto che siete messi... Il sovrano, ordine di San Giovanni di Gerusalemme, il cavalieri ospitalieri. E la domanda era questa. Stasera è un ordine che è riconosciuto dallo Stato italiano in funzione riconosciuto a 178 che conosciamo. Sì, ma infatti in base alla legge 178 del ministero e dell'interno, oltre che il Piedesco come ordine ci hanno, diciamo, fatto costituire l'associazione. E la Vetermidiner, diciamo questa... Sì, andiamo tranquilli, noi assistiamo, diciamo, nel Banco Alimentare, sui 118 famiglie, mensilmente. Quindi fate della beneficenza, non è solamente, diciamo... Penso che se lei... Non so quale è il giornale che lei ha fatto. No, l'ho detto, l'ho detto, l'Inside, il programma L'Indiscreto, e quindi fate anche la beneficenza. Quindi non solo, diciamo, questo denaro che viene preso è per gli associati... Il denaro non lo prendiamo mai, lo doniamo, lo diamo. No, viene trasformato in beneficenza, è questo che lei sta dicendo. Va bene. Allora, grazie, buona festa. Grazie a lei. Ci vediamo il prossimo anno. Speriamo. No, è da tre anni che la guardiamo, quindi... Ah, io per questo mi metto il pernacchio, per farlo riconoscere la colpa. Abbiamo avuto il piacere quest'anno di conoscere personalmente e di parlare con molta cordialità. Noi restiamo sempre al nostro parere della legge e rispetto della legge. Grazie. Ancora da dire. Buona festa a tutti. Grazie. Rimane sempre una gran confusione in merito e non comprendiamo il perché in altre parti d'Italia si sente che le procure e gli organi di polizia siano maggiormente attive per ragionare questi specifici fatti che continuano nella loro consuetudine. Violando la legge. Promettevano lavoro in Italia centinaia di stranieri provenienti dalla Tunisia fingendosi cavalieri dell'ordine di Malta. Tra i truffati oltre 60 tunisini e persino la showgirl Ramona Abadescu. Nove le persone arrestate dai carabinieri di Roma tra la capitale Latina, Bologna e Reggio Calabria. Tra loro anche un docente universitario. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa, conferimento illecito di onorificenze e decorazioni cavalleresche e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Venivano agganciate delle persone, veniva prospettato loro di far parte dell'ordine cavalleresco. Le persone inconsapevolmente ritenendo di avere a che fare con l'originale ordine di Malta elargivano degli oboli per ottenere questa onorificenza, talvolta anche sostanziosi perché abbiamo evidenze investigative per elargizioni che oscillano tra i 2.000 e i 10.000 euro a seconda della carica che era stata in qualche maniera promessa di avere all'interno dell'ordine cavalleresco. La banda vendeva quindi falsi cavalierati a tutto spiano, trovando clienti addirittura tra gli ignari funzionari pubblici e accreditandosi anche presso numerosi stati esteri facendo credere di essere i veri cavalieri di Malta. L'arte degli imitatori era così sottile che erano riusciti a ingannare diversi parroci per la concessione delle chiese per famose cerimonie religiose e l'immancabile iniziazione. L'ordine aveva anche dei siti internet che erano del tutto simili a quelli dell'ordine di Malta con la colorazione tipica bianca e rossa, con la croce e quant'altro. Quindi per un navigatore non esperto ovviamente si aveva la sensazione di avere a che fare con il vero ordine di Malta. L'indagine è partita nel novembre 2012 dopo la denuncia da parte delle titolari di una tipografia a cui era stata commissionata la stampa di alcuni passaporti da parte di uno degli indagati presentatosi come rappresentante di un'agenzia diplomatica internazionale. Dopo qualche giorno i carabinieri hanno scoperto che l'organizzazione voleva far entrare legalmente in Italia per la frequentazione di un corso per uso di defebbrillatore 350 cittadini tunisini. Signori cavalieri, mi permetto di ricordare che chiunque fa uso in qualsiasi forma e modalità di onoreficenze, decorazioni o distensioni è punito dalla legge 3 marzo 1951, numero 178, articolo 7 e articolo 8. E se qualcuno ha qualcosa da dire, noi siamo sempre qua. Grazie a tutti.